la notizia che sta facendo di fatto impazzire tutti i social nerazzurri è quella che sta rimbalzando un po' dalla Spagna e un po' è stata rilanciata soprattutto in Italia in particolare il quotidiano La Repubblica oggi ha rilanciato con forza una voce secondo cui ci sarebbe un intermediario che starebbe lavorando ad un possibile scambio con Griezmann all'Inter e Lautaro Martinez al Barcellona questa è la notizia che è stata riportata il Barcellona al momento lo sappiamo l'abbiamo detto tante volte non ha i soldi per accontentare le richieste dell'Inter su Lautaro Martinez Griezmann dall'altra parte è in rotta veramente dura con il Barcellona con l'ambiente con il tecnico per cui le voci su un suo possibile addio dopo un solo anno dal suo arrivo al Camp Nou sono sempre più insistenti e soprattutto alla luce anche dell'ultimo caso che abbiamo visto negli ultimi giorni si sta facendo sempre più insistente questa voce questa possibilità di un suo addio l'Inter scrive sempre il quotidiano La Repubblica starebbe valutando la possibilità di prenderlo in prestito per una o due stagioni all'interno dell'affare Lautaro Martinez al Barcellona questa quindi è la notizia ripeto che sta circolando e che sta facendo molto discutere è lanciata in Italia dal quotidiano La Repubblica quindi questa era la notizia poi cosa è successo nella diretta Instagram che facciamo tutti i giorni alle 17 sul profilo Instagram di passioneinter.com in tantissimi mi avete chiesto che cosa ne penso di Griezmann se penso sia un'operazione fattibile in generale cosa ne penso comunque dello scambio se farei lo scambio prima di dirvi però cosa ne penso io tra poco vi dirò cosa ne penso io voglio leggervi un attimo quelli che sono i commenti che ci avete lasciato sul nostro profilo Instagram quindi voglio leggervi cosa ci hanno detto quindi i tifosi dell'Inter su questo presunto possibile scambio vado quindi a mostrarvi dal profilo Instagram di passioneinter.com abbiamo lanciato questo sondaggio faresti lo scambio Griezmann per Lautaro vedo Dibbo Manuel absolutely yes lui quindi Manuel lo farebbe porterei io Lautaro sulle spalle fino a Barcellona Luca è contrario assolutamente no Ciccio Anzalone no sicuramente no i motivi sono diversi età ingaggio a prospettive di crescita Scozzi Luigi 97 sinceramente io non so cosa ci vede molta gente in Griezmann sicuramente un ottimo giocatore ma niente di più parere personale Guarnese questo commento mi è piaciuto voglio sapere che cosa ne pensate anche voi di questo commento scritto da Guarnese 82 visto che non sono né il commercialista nell'Inter né tantomeno il proprietario quindi non mi arriva una lira dell'operazione dico che c'è poco da fare i contabili ma più i tifosi e io da tifoso è il toro lo tengo subito e gli adeguo l'ingaggio portandolo al livello di Lukaku questo mi è piaciuto molto come commento Mauro Bombicini subito Nicola Moni non lo farebbe Rocco Palatella sì Axel no Tony no Mattia Fatali neanche per sogno quindi questi sono un po' dei commenti che ci avete lasciato nel nostro post sul nostro profilo Instagram di passione inter.com mentre vi leggo anche alcuni che ci avete mandato in direct sul nostro profilo Instagram nelle stories Michele Picci dice assolutamente sì Lorenzo dice forse Thomas Canale dice no Beppe Vera dice no Gorgio dice no in generale abbiamo lanciato anche un sondaggio in cui il 64 per cento dei votanti dice che non farebbe lo scambio Lautaro Martinez Griezmann quindi questo è il parere degli interisti il parere dei tifosi che hanno risposto ai nostri sondaggi sui vari commenti vedo Claudia Vasile che dice l'ingaggio chi lo paga io no vediamo Michele operazione molto difficile ma non impossibile difficile perché Griezmann prende 17 milioni e ha 29 anni ok questi erano quindi i pareri dei tifosi io voglio dirvi anche la mia brevemente poi fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo con me non voglio convincere nessuno voglio solo dare la mia opinione molto libera molto sincera Griezmann per me a livello tecnico di giocatore non si discute è un grande calciatore a Barcellona secondo me ha sofferto il fatto di dover diventare uno dei tanti in un contesto in cui vengono aggiunte stelle negli ultimi anni un po' a caso è stato tolto dal centro della scena secondo me quindi da leader e trascinatore è diventato uno dei tanti mentre secondo me è un giocatore che ha bisogno di sentirsi leader e trascinatore e in un ruolo del genere può ancora essere devastante secondo me quindi Griezmann è un grande giocatore assolutamente lo scambio con Lautaro Martinez però detto molto francamente mi lascia perplesso per un motivo in condizioni normali sottolineo normali ovvero allo stato attuale delle cose con l'Inter che non ha neanche un bisogno urgente di vendere un calciatore così importante come Lautaro è uno scambio che per me non ha alcun senso vendi un classe 97 che quest'anno è di fatto esploso a livello internazionale e che guadagna allo stato attuale delle cose 15 volte meno dell'altro giocatore class che è un classe 91 Griezmann super pagato che arriva da una stagione flop nonostante comunque abbia segnato 14 gol e 8 assist è una stagione al di sotto di quello che ci si aspettava da un giocatore pagato oltre 120 milioni di euro in un'operazione che poi tra l'altro nelle casse dell'Inter rischia di fatto di non portare neanche un euro cash perché perché il Barcellona per liberarsi di Griezmann pagato oltre 120 milioni di euro sicuramente almeno nella fase iniziale cercherebbe di valutarlo almeno quanto Lautaro Martinez per non fare una minusvalenza quindi in condizioni normali lo ribadisco anziché dare 15 16 18 milioni di euro quelli che sono a Griezmann mi tengo Lautaro Martinez gli do magari 10 milioni di euro che sono comunque tanti ma comunque meno di quelli che prende Griezmann accontenti Lautaro e ti tieni l'attaccante del futuro che per i prossimi 10 anni può essere il tuo titolare in quale caso però può diventare uno scambio tra virgolette accettabile o comunque posso iniziare a pensarci almeno secondo me facciamo questo ragionamento se davvero Lautaro Martinez come sono convinti Spagna è assolutamente convinto di andare al Barcellona vuole a tutti i costi andare al Barcellona e spingerà affinché l'Inter lo ceda al Barcellona sappiamo che la volontà del calciatore fa sempre la differenza a quel punto lì a quel punto lì se il giocatore veramente si impunta e a tutti i costi non ci sono ragioni per farlo restare all'Inter non puoi far più nulla secondo me a quel punto per tenerlo allora un ragionamento su Griezmann secondo me è lecito farlo possibilmente non alla pari ovviamente perché impostare magari uno scambio in cui Lautaro Martinez lo cedi cash a tanti soldi e Griezmann lo ottieni magari in un prestito biennale con un riscatto spalmato a cifre molto inferiori è una possibile operazione molto fantasiosa estremamente fantasiosa che però eh vendi Lautaro Martinez e ti metti dentro comunque un un grande attaccante però qui stiamo parlando veramente di operazioni stiamo viaggiando con la fantasia comunque piuttosto che farsi dare un junior firpo che al momento il Barcellona vuole valutare addirittura 40 milioni di euro eh meglio o anche un altro dei tanti scontenti che il Barcellona vuol piazzare meglio andare sul sicuro con un campione fatto e finito e detto sinceramente un trisse d'attacco con composto da Lukaku Griezmann e Sanchez con tutti gli asterischi del caso più un quarto ovviamente da individuare sinceramente io non ci sputerei sopra. Fermo restando quindi e ribadisco ancora una volta che in condizioni normali è uno scambio che non farei per tutte quelle valutazioni che ho fatto all'inizio. Fatemi sapere che cosa ne pensate se siete d'accordo con me iscrivetevi al nostro canale YouTube lasciateci un feedback eh nei commenti e vi ricordo anche che siamo tutti i giorni in diretta su Twitch e i nostri contenuti li trovate anche in formato podcast su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.